Per la giornata nazionale contro l'omofobia sul palco del sociale La Sirenetta della compagnia Eco di Fondo. Stasera si racconta la favola di Andersen come metafora del tema dell'identità sessuale. Quindi siamo partiti dalle lettere di ragazzi che hanno scelto di togliersi la vita perché non si sentivano accettati nel loro corpo per poter raccontare attraverso i caratteri di questa fiaba quello che è purtroppo una tragedia contemporanea. Cerchiamo di raccontare che quello che ci ha colpiti tanto della fiaba di Andersen è che rinunciare alla propria coda per la Sirenetta al contrario della fiaba di Disney che è edulcorata è la cosa più trusce che la Sirenetta possa fare verso se stessa perché quella coda è la sua essenza, quella è la cosa che la rende speciale e questo è quello che chiediamo ai ragazzi di essere se stessi e quello sarà l'unica cosa che non li farà soffrire mai, che sarà difficile ma sarà la cosa che li rende speciali e forti e questo credo, spero, la Sirenetta parli in realtà di tante differenze, non soltanto di una differenza diciamo che può essere accettare una propria identità piuttosto che un proprio orientamento sessuale. La tematica che affrontiamo riguarda l'adolescenza ma è qualcosa che ti porti dietro per tutta la vita se hai subito un trauma o se nella tua adolescenza hai dovuto lottare per esprimere la tua identità, per essere te stesso questo lo capiamo anche dalle lettere che riceviamo a fine spettacolo o via email o attraverso il social network la pagina Facebook della compagnia che è attiva per raccontare anche questo, per occuparci di questo problema che purtroppo lo è, è un problema che cerchiamo di raccontare con poesia, con immagini e con delicatezza il punto è riuscire a dire a tutti i ragazzi siate voi stessi con un sorriso Trattiamo un tema come già stato detto anche dagli altri miei compagni di scena molto delicato che oltre a riguardare il periodo dell'adolescenza può riguardare anche tutta la vita di responsabilità perché appunto è delicatissimo e ci sentiamo ogni volta in dovere di rispettare la materia che portiamo al pubblico è uno spettacolo bellissimo, difficilissimo da fare ma è stata una grandissima sfida anche perché abbiamo messo in campo tante energie e tanti buoni propositi perché tutto arrivi al pubblico nel migliore dei modi